Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di mele e frutti di bosco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, lievito, scorza di limone, vanillina, uova, burro, mele tagliate a fette, frutti di bosco e zucchero di canna. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, la farina, le uova, la vanillina e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo rettangolare di 20 x 30 centimetri rivestito sul fondo con carta da forno imburrato nei laterali. Posizioniamo adesso le mele, aggiungiamo i frutti di bosco, polverizziamo con lo zucchero di canna, cuocere in forno pre riscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di mele e frutti di bosco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!